L'amore del quale stiamo parlando si trova al di sopra del desiderio di ricevere, dove c'è qua amore, non è nemmeno amore, il nostro concetto se amo a suo figlio, cioè non è ama, non è amore, è parte del suo corpo, il figlio della madre, l'amore è il fatto che io sento qualcuno esterno, estraneo a questa sensazione, io la supero e la tratto come se fosse mio, cioè come se fossi io, questo è amore che si misura in accordo all'apporto tra le differenze, questa è la misura di amore. Se un ragazzo e una ragazza godono uno dell'altro, un uomo e una donna godono di se stessi, significa che loro si amano? Ognuno gode con l'altro, sull'amore è possibile parlare solamente se ci si trova in opposizione, in accordo all'apporto di opposizione e negativa.